Chieti capitale del pugilato nel fine settimana. Al Palasport di Colle dell'Ara, dal 16 al 19 marzo, si disputerà il torneo nazionale femminile Junior e Yauta d'invito ed Elite seconda serie Open. 114 le atlete in competizione, provenienti da tutta Italia e così suddivise 28 Junior, 22 Yauta e 64 Elite. Una Kermes che sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Federazione Pugilistica Italiana e che premia l'abnegazione dell'ASD Box Tullio Di Giovanni che organizza l'evento. E' stato fortemente voluto questo torneo per tante motivazioni, anche per dare una scossa forte al mondo, passatemi il termine, pugilistico abruzzese, perché era da tempo, specialmente qui a Chieti, che non si avevano queste tipologie di tornei importanti a carattere nazionale. Quindi abbiamo lottato per ottenere questa assegnazione con una candidatura forte, con proposte valide. E quindi ci siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione di tutti. Ora siamo alla vigilia e cerchiamo di migliorare gli ultimi preparativi per dare il via al tutto. Probabilmente è uno degli eventi più importanti dal punto di vista sportivo che la città di Chieti andrà a ospitare in questi ultimi anni. E voglio sottolineare come, parliamo di uno sport, è importante che non sia sempre e solo il calcio, permettetemi di dire. E quindi questa scuola pugilistica presente su Chieti offre un servizio molto importante che io voglio portare all'attenzione di tutti, che il servizio è proprio per i ragazzi. Tutti coloro che volessero avvicinarsi all'e-sport possono avvicinarsi a Chieti, ci sono tante altre scuole pugilistiche importanti. Sulla quattro giorni di evento la Toglio di Giovanni spera di poter gratificare la platea di appassionati. E si aspetta? Tanto, tanto pubblico e spettacolo. E soprattutto tanta educazione da parte degli atleti che stiamo cercando di formare anche in questo senso.